Onestamente nel primo tempo sì, finalmente siamo andati in vantaggio. Un primo tempo non facile per noi sotto il piano della manovra, del coraggio e soprattutto del volere cercare la profondità attaccando. Pur non soffrendo il gioco del Frosinone, però il Frosinone ha delle individualità che in qualsiasi momento ti spostano completamente quello che è l'esito della partita. Abbiamo avuto i brividi su una punizione di Ciano in altre due circostanze. E però l'equilibrio della Serie B, sapendo stare in partita, sapendo soffrire, ci aveva portato finalmente in vantaggio. E francamente forse non era meritato, però è successo a volte anche il contrario. Nel secondo tempo il rammarico grande è che nel momento migliore della Salernitana sul piano del palleggio, sul piano della manovra, come sapevamo stare in campo, abbiamo avuto due occasioni importanti per chiudere la partita e lì sono anche segnali. La superiorità numerica può incidere sul fronte offensivo nei duelli e nelle conclusioni. Non abbiamo cambiato assetto dietro perché loro comunque, pur cambiando gli interpreti, hanno mantenuto comunque sempre i tre attaccanti e i due mediani. Noi volevamo avere copertura centrale perché a Cioffani non gli può lasciare un centimetro, Cian e Sodimo li abbiamo chiusi bene. I due giocatori che sono entrati, Citro e Matarrese, sono due altrettanti rapidi brevi linee. Quindi la difesa ha fatto quello che doveva fare. Peccato per quel gol subito dove su tre rimpalli per tre volte consecutive è arrivata sul piede dei giocatori del Frosinone. È l'unico giocatore smarcato se trovata la palla lì. È un grande rammarico di tutti i pareggi, alcuni l'abbiamo preso in extremis. Oggi una volta trovateci in vantaggio, finalmente dovevamo chiuderla. Però, ripeto, c'è anche il merito dell'avversario a cui non puoi concedere niente perché non solo nell'abilità ma anche negli episodi hanno giocatori che espostano gli equilibri. Non a caso è il gruppo che ha fatto 74 punti l'anno scorso in Serie B e non li fai a caso. Noi eravamo in vantaggio 1-0. Avevamo un buon equilibrio difensivo. Sapevo che Signorelli in 90 minuti probabilmente avrebbe fatto fatica a farli. Rosina rientrava dopo un lungo periodo e anche lui 90 minuti. Quindi erano preventivate probabilmente alcune staffette. In vantaggio 1-0 perché cambiare l'assetto, soprattutto sul fronte offensivo, si poteva giocare col doppio attaccante ma poi rischiavamo o sulle corsie esterne e non potevo di certo togliere uno dei due mediani perché il centrocampo dovevo mantenerlo. L'unica nota che abbiamo cercato di insistere è con Keein, che se voi guardate anche a metà del secondo tempo dopo l'espulsione lui ha giocato molto più alto e questo era l'inserimento, chiamiamolo, più offensivo. Siamo mancati in certe continuità di conclusione ma non ci sono mancati i gol perché le occasioni da gol abbiamo avuto proprio sull'1-0.